Benvenuti, questo è Minor League, un contenitore nato per dare spazio a chi di spazio solitamente non ne ha o magari non ne ha a sufficienza, compieremo un autentico tour a 360 gradi all'interno delle principali discipline che solitamente non riescono a ottenere la copertina dal calcio a 5 alla palla a volo, dalla palla a mano alla palla canestro, dalla scherma all'equitazione. In questa prima puntata partiremo proprio dal mondo dei cavalli, con le nostre telecamere siamo stati all'Ippico Paolo Ferretti, uno dei principali maneggi della città, un vero e proprio centro o scuola. Vi proponiamo l'intervista a Lianella Dominici, uno dei tre istruttori di livello internazionale che si occupano in particolare della cura degli animali, ma anche della crescita di chi si approccia a questa disciplina, obiettivo ottenere il massimo nel rispetto comunque dell'animale, una passione senza età che peraltro produce risultati di livello agonistico di assoluto rispetto. Pensate ben 10 medaglie ai recenti campionati siciliani di dressaggio, sono stati ottenuti proprio dagli allievi dell'Ippico Paolo Ferretti e allora ecco l'intervista a Lianella Dominici. Una passione che accomuna tantissime persone. Nel centro che lei gestisce dal punto di vista organizzativo, visto che neanche il Presidente, quanti iscritti e quante ore, giornate vengono dedicate all'amore per il cavallo? Allora, nel nostro centro ci sono circa un centinaio di iscritti, tra piccoli e grandi. Le ore sono tante, perché essendo tanti i frequentatori, noi lavoriamo tutti i giorni alla settimana, compreso il sabato e la domenica, sia mattina che pomeriggio, e tranne lunedì, che è finalmente il nostro giorno di riposo. Ovviamente lavoriamo anche spesso nei giorni di vacanza, perché quando per le altre vacanze è giusto che noi diamo l'opportunità invece di passarla da noi la loro vacanza. Dal puro divertimento all'agonismo. Spesso ci si avvicina giusto per passare una giornata diversa e poi invece si finisce con l'innamorarsi di quello che è uno sport a tutti gli effetti. Noi abbiamo una filosofia che ci ha premiato negli anni. La filosofia è l'avvicinamento al mondo del cavallo, l'amore e il rispetto per la natura e il cavallo. Venire da noi, ok, si impara la giusta tecnica e il giusto modo anche di accostarsi a un animale che è comunque diverso da noi. Allora questa è la base. Da noi si impara a montare in maniera corretta. Montare in maniera corretta cosa vuol dire? Avere meno rischi nella vita quotidiana, perché chiaramente montare al cavallo implica cadute, ogni tanto qualche russolato, ogni tanto qualche danno accade. Ovviamente laddove, se noi facciamo una buona scuola guida con le macchine, investiremo meno. Lo stesso vale con i cavalli. Per cui partiamo dal fatto che noi vogliamo insegnare a tutti un bel rapporto col cavallo. Poi nel gruppo accade che qualcuno abbia delle esigenze di tipo agonistico e noi siamo in grado di soddisfarle, anche perché nel nostro maneggio, oltre a me come istruttrice, ci sono anche altri due istruttori che hanno un pedigree molto buono a livello di gare, sia nazionali che internazionali, per cui possono trasmettere ciò che hanno fatto, non ciò che hanno sentito dire. Però noi apprezziamo moltissimo anche la persona che ha il suo cavallo e viene, per il piacere di pulirselo, di farsi la sua lezione, di farsi la sua passeggiata. L'importante è che l'animale venga trattato bene. Se viene trattato bene, per noi non c'è una scala di valori. L'importante è che sia un utilizzo sano, giusto, se poi io ho l'agonismo nel sangue, lo utilizzo per quello, nei giusti criteri, nel giusto sfruttamento di tutto questo, va bene. Se invece non c'è questo, non c'è nulla, perché noi facciamo uno sport, ma in effetti non è proprio uno sport, perché abbiamo a che fare con un animale che soffre, che può star bene, che può star male, che ha delle simpatie, che può avere il giorno o no, e il massimo del nostro sport è riuscire a fare insieme una cosa col minimo della coercizione. Cioè, noi otteniamo il massimo, questo anche capiva nel lavoro, no? Se lei ha un dipendente o comunque ha un collaboratore, ottiene il massimo certamente da una collaborazione, non da una coercizione, perché è appena possibile il dipendente che è costretto, insomma, evita di fare quello che gli è stato chiesto. È lo stesso il cavallo. Allora, deve esserci l'appuntamento, noi cerchiamo di creare tra i nostri allievi, tra chi si avvicina al nostro maneggio, in questo siamo un po' particolari sicuramente, questo approccio all'animale, nel senso di essere che ha un'anima, è un animale perché ha un'anima, ok? Poi da questo nascono varie opportunità, c'è chi ama fare il trekking, c'è chi lo fa per gioco, non so che è anche un gioco, perché si può anche giocare, ci si può divertire pure senza montarlo da terra, facendo delle cose simpatiche in cui si vede che c'è, diciamo, il feeling. Lo facciamo anche noi, anche con i cavalli con cui facciamo gare, alle volte abbiamo il cavallo con cui stiamo a piedi, saltiamo avanti e loro dietro ci corrono dietro. È uno sport o una passione comunque che non ha età? Sì, non ha età, infatti noi abbiamo, da noi cominciano dai tre anni i bambini, dai tre ai cinque anni c'è il mini pony club con dei pony, proprio dei cavallini piccoli, molto piccoli, sono alti più o meno come un alano, diciamo, per cui anche l'eventuale caduta non è traumatica perché è come cadere alla bicicletta, eccetera. E questi sono bambini che vengono solo per giocare, giocano col cavallo, imparano a pulirlo, a rispettarlo, a capire i segnali, diciamo, sotto il profilo etologico, cioè capire perché il cavallo si muove in un modo, come bisogna avvicinarsi, come non bisogna fastidirlo, come anche salvaguardarsi, perché se noi non ci sappiamo avvicinare bene all'animale, rischiamo anche di farci male, non perché l'animale è pericoloso, ma perché siamo noi che ci siamo approcciati nel modo sbagliato. E poi abbiamo anche dei soci, alcuni addirittura, diciamo, vecchi cavalieri che continuano ancora oggi a 70 anni a montare regolarmente, e altri invece, la cosa sorprendente, noi abbiamo una faccia di gente che invece ha cominciato proprio da grande, diciamo dopo i 50 anni, e spesso sono anche dei genitori che portano i figli, cominciano uno o due anni i figli e poi i genitori, a fuori i sedi, ma io non potrei provare. E devo dire che questi più grandi sono quelli che ci danno la maggiore soddisfazione. Perché? Perché certamente appagano il sogno di una vita che vedono prima realizzato con i figli, quando riesce. Alle volte capisce pure che il figlio smetta, ma il genitore continui. E questo è molto bello. Dal punto di vista agonistico, anche tante soddisfazioni. Di recente una pioggia di medaglie. Ai campionati siciliani di Dressage abbiamo avuto proprio una magnifica affermazione. Siamo andati con otto nostri tre cavalieri amazzoni. In otto abbiamo vinto dieci medaglie, per cui in più di una medaglia a testa. Abbiamo vinto due medaglie d'oro, cinque d'argento e tre di bronzo. Ma soprattutto, la cosa da sottolineare, è che le abbiamo vinte con dei giudici di livello nazionale e internazionale. Perché? Perché nella disciplina del Dressage, che è una disciplina in cui c'è un giudizio del giudice, al contrario del salto ostacoli in cui c'è un'evidenza, cioè cade l'ostacolo, c'è la penalità. Invece nel Dressage c'è un giudizio dei vari giudici. È importante che il giudice sia molto qualificato. Perché se non lo è, noi rischiamo di avere dei risultati falsati a livello nazionale. Perché magari il giudice vuole essere gentile o perché magari non è abbastanza competente. Invece quello che noi abbiamo richiesto, io sono anche rappresentante di una commissione Dressage per la Sicilia, e abbiamo veramente ottenuto, puntando un po' i piedi, abbiamo voluto i migliori giudici che ci sono. Cioè noi abbiamo un giudice che ha giudicato, non so se l'anno scorso, i campionati del mondo in Germania. Era nella nostra giuria. Questi giudici hanno dato delle votazioni molto alte. Per cui al di là della medaglietta, che sicuramente a cui tutti aneliamo, i ragazzini, i genitori, tutti quanti, però è stato bello verificare che abbiamo preso dei punteggi che ci mettono in un buon livello nazionale. Questa è stata una soddisfazione superiore ancora alla medaglia in sé. Una curiosità. Cavallerizzi si nasce o si diventa? Noi abbiamo dei bambini che mettiamo a due o tre anni che sembra che sono sempre stati in sella. Lei li mette in sella, loro sorridono, sono in equilibrio. È come se l'avessero fatto fino nella vita precedente, direi. Però accade pure che arrivi qualcuno, e a me personalmente è capitato, che io metto in sella, che dico, questo proprio non è portato, ce la metto tutta e questa cosa va avanti. Non dura sei mesi, un anno. Poi a un certo punto c'è un fiorire e mi è capitato, in più di un'occasione, non in molte, ma in più di un'occasione, che questi siano diventati tra i più bravi. Per cui, sinceramente, mai dire mai. Il club è intitolato a Paolo Ferretti, ha vinto dieci medaglie ai recenti campionati di dressage, campionati siciliani. È stata la scuola più vincente, anche a livello di tradizione, è la scuola più affermata del Sud Italia, da Napoli in giù, insieme ad alcune scuole pugliesi. In questi ultimi campionati, altri due maneggi, uno di Raguse, e poi il club La Palma dei Nasisi, anch'esso messinese, hanno ottenuto risultati lusinghieri. Siamo con Valeria Tamaglia, ha vinto due medaglie d'oro ai recenti campionati italiani di dressage. Quanti anni hai, e soprattutto da quanto pratichi l'equitazione? Io ho 16 anni compiuti da poco, pratico l'equitazione da 6-7 anni. Questo è il tuo cavallo? Come si chiama? Si chiama Taglovi-Dance Robin, è danese, ha 16 anni pure lui. Avete dei cavalli assegnati, con i quali anche volgete queste competizioni agonistiche? Sì, sì, perché dobbiamo essere molto affiatati, ognuno col proprio cavallo, quindi soprattutto nella disciplina del dressage c'è bisogno appunto di questo. Che cos'è il dressage? Lo spieghiamo magari al grande pubblico che non è avvezzo con questa disciplina. Il dressage non è molto conosciuto, ed è una disciplina appunto della monta inglese, in cui i salti non c'entrano. Sono solamente delle figure che il cavaliere deve compiere con il cavallo, seguendo un percorso prima deciso. Questi campionati siciliani sono stata la tua prima grande esperienza, oppure avevi già altri successi alle spalle? Ho fatto alcuni campionati italiani, ma le vittorie migliori le ho fatte ai campionati siciliani. La prima volta è stata una vittoria nelle promesse, poi ho fatto altri campionati siciliani, ho guadagnato in tutto quattro medaglie regionali. Quali i tuoi prossimi obiettivi? I miei prossimi obiettivi sarebbero di continuare a migliorare sempre col mio pony, possibilmente anche con un nuovo cavallo, adesso soprattutto che dovrei cambiarlo. Quante ore bisogna dedicare per arrivare ad avere questo tipo di risultati? Io mi alleno un'ora al giorno, eccetto il lunedì, ma quando devo studiare vengo anche un po' meno spesso. Comunque bisogna essere molto costanti nel lavoro, perché c'è bisogno di affiadamento col proprio pony. Perché consiglieresti magari ai nostri spettatori di fare guidazione? Perché è uno sport bellissimo, non sei solamente tu in campo, sei con un'altra creatura vivente, hai bisogno di rispettarla, impari molte cose anche per la tua vita, ed è uno sport veramente bello. In bocca all'uvo. Grazie. Tu invece difenderai i colori della Sicilia, una competizione che in programma a Roma, di cosa si tratta in particolare? È una manifestazione di dressaggio a livello italiano, che noi garezzeremo a squadra o individualmente per difendere i colori della Sicilia. È una selezione, quindi non soltanto compagne con cui lavori abitualmente qui a Paolo Ferretti, ma anche provenienti da altri maneggi siciliani. Sì, ci sono anche altre ragazze che garezzano per alcuni tipi di Ragusa, di Catania, che parteciperanno pure loro con noi. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è di cercare di andare il meglio possibile, di fare una buona figura, anche fuori a livello italiano. Da quanto pratichi guidazione? Quattro anni e mezzo. Anche tu hai un cavallo assegnato? Sì, sì, ho il mio cavallo, e si chiama la Damocles. Quante ore ogni giorno dedichi a questa disciplina? Lavoro ogni giorno e un'ora, un'ora e mezzo su per giù. Siamo con Elsa Calcaterra, quanti anni hai e in che disciplina invece ti sei imposta? Ho 11 anni. In quali competizioni sei riuscita a vincere queste medaglie? Nella categoria E. In particolare, quali le caratteristiche? Devo fare dei percorsi. Come si chiama il tuo cavallo? Corre Borgs Niklas. Da quanti anni pratichi questa disciplina? Tre. Io ho 11 anni e ho iniziato ad andare a cavallo da quando avevo 4 anni. Sempre qui al Paolo Ferretti. Il tuo cavallo? Nuvola. Quali risultati hai ottenuto a questi campionati siciliani? Sono arrivato alla seconda alle regionali. Due anni fa il bronzo con phonograph, l'anno scorso l'oro, sempre con phonograph. Da quanti anni pratichi questa disciplina? A ottobre è inizio del quinto anno. Come hai iniziato? Onestamente è da quando ho due anni che chiedo ai miei genitori di andare a cavallo. Quindi a forza di chiederglielo, alla fine, quando avevo 14 anni, ho iniziato. Hai poi contagiato anche l'oro? No, devo dire che la passione l'ha contagiata mia madre. È genetico. Sua figlia ha ottenuto risultati di rilievo e una passione di famiglia. Sì, lei aveva da poco imparato a parlare. Mentre io montavo con la figlia più piccola di pochi mesi, lei aveva già i suoi tre annetti, due anni e mezzo. Portavo lei, la piccola e anche l'intermedia con me, lei ha chiesto, è riuscita a estorcere una passeggiata insieme ad un altro signore che cortesemente si è prestato. Al momento di scendere, Riana è stata in grado di dire, ma io volevo saltare. Non è semplice svolgere attività agonistica con la figlia accanto? Magari è un'emozione particolare. Sì, ma è bellissima. Lei quando ha iniziato invece a praticare, a innamorarsi dell'equitazione? Con una certa serietà, anch'io da cinque anni con mia figlia, con continuità, con impegno sicuramente. Oggi ovviamente magari non partecipa a vere e proprie competizioni, però ama ritagliare uno spazio importante per questo mondo. Due o tre ore al giorno mi sembra uno spazio importante. Riesce a conciliare con la famiglia, sua figlia con lo studio? E con molta pazienza da parte dei familiari. In questa struttura al coperto trovano spazio tutti questi bambini che voi fate crescere. È il primo approccio con il cavallo, con l'animale. È l'importanza perché il rapporto con la natura, il rapporto con l'animale, il rispetto dell'animale. Per cui questi bimbi, per esempio, che cosa sanno? Lei si chiama Mael. Tu cosa fai con il tuo cavallo? Quando vieni qui, che cosa fai? Quando vai in scuderia, cosa fai per prima cosa? Devo spazzolare, devo pulire i zoccoli e devo sellare. Ok. E zuccherini pochi o molti? All'inizio pochi, alla fine molti. Ah, se si è comportato bene ovviamente. Dovete sapere che qui, come in tutta Europa, i maschi sono minoritari almeno. Per cui trovare un maschietto che monta, insomma, noi vorremmo incoraggiare perché qui sono beati dalle ragazzine. Cioè, il rapporto è di uno a sette, uno a otto. Per cui tu in mezzo a tutte queste compagne che sono tutte femmine, come ti trovi? Bene o male? Bene. E il tuo cavallo preferito qual è? Lisa. E c'è in questa zona questo cavallo? E questo. Ma che combinazione? Sta montando il suo cavallo preferito perché è importante che loro vengono all'incontro con il loro cavallo. È un rapporto che si viene a creare. Non è soltanto, non è la macchina, non è il motorino che noi accendiamo. Per cui loro... Sono tutti animali comunque che curate voi? Assolutamente. Questi che stiamo nominando sono i nostri cavallini. Molti sono della scuola, qualcuno può essere anche di proprietà, ma per noi non c'è nessuna differenza. I cavalli vanno trattati benissimo per quello che sono, per quello che ci hanno. Perché come vedete sono degli animali, guardate che meraviglia, sono tranquilli, sereni, non sono litigiosi. Allora, abbiamo qui un'altra mazzone determinatissima. Come si chiama questa mazzone? Sveva. Sveva, da quanto tempo vai a cavallo tu? Vado da quattro anni, però in questo maneggio vado da febbraio. Ah, ok. E come ti trovi? Bene, benissimo. E tanto non potresti dire diversamente, ma in questo c'è... Allora, il tuo cavallo preferito? È lui. È lui. E che cosa... Dicci un particolare del tuo cavallo, una cosa che ti ha colpito di questo cavallo. Cosa è che ti ha colpito? È molto veloce e bello. Qui abbiamo delle signorine più grandi, qui abbiamo una signorina, insomma, che va bene. Come ti chiami tu? Angela. Angela, il tuo cavallo preferito? Candy. Candy? Casualmente dov'è? Sotto di te, va bene. Allora, oggi abbiamo indovinato i gusti di tutti. E poi abbiamo qui un'altra promessa, un'altra promessa, che si chiama? Desiree. Tuo cavallo preferito? Flash. Flash. E dov'è? Qua. Oggi è stato un giorno fortunato. Dimmi una cosa, Desiree, ma tu a scuola vai bene? Sì. Qui un messaggio che passa è che devono andare bene a scuola, perché i genitori sicuramente sono più contenti e non può passare prima il cavallo, ma il cavallo è importante. Qui abbiamo delle magnifiche amazze che vi presento soltanto per nome, sono Annalisa, abbiamo una mamma che è Caterina, una nostra studentessa universitaria che si chiama Luisa e un'altra studentessa, neo studentessa universitaria che è Emanuela. Capita di rado, ma se si cade da cavallo cosa accade? Si casca da cavallo, non di rado, si casca, è normale. Avete esorcizzato questo con un rito tutto vostro? Abbiamo un rito bellissimo che veramente abbiamo scoperto che è un po' mondiale questo rito, cioè quando si casca da cavallo bisogna offrire a tutti, da noi in Sicilia noi offriamo i cannoli, per cui devo dire che scorpacciare i cannoli ne facciamo, insomma capita di farne, però è una cosa simpatica, in più è importante dire la struttura, il terreno, se lei guarda il terreno sotto di lei è un terreno che va tenuto morbido, per cui anche nella caduta è importante il terreno. E poi è importante avere degli animali, come lei può ben vedere, mansueti, ordinati, che sono sereni, che sono trattati bene, che sanno che non vanno incontro a qualcosa di terribile nel momento in cui lavorano con l'uomo. Passione, sport, ma anche cultura e beneficenza sono alcuni degli ingredienti di Magica Lorsi su una manifestazione che nei giorni scorsi si è svolta a Forte Ogliastri. Noi abbiamo intervistato il dottor Matteo Allone, presidente dell'associazione Il Centauro, una onlus che si occupa in particolare di ipoterapia e dei benefici che garantisce un utilizzo particolare del cavallo e in questa intervista che stiamo a proporvi parliamo anche della straordinaria tradizione equestre della nostra città, dello sforzo organizzativo consistente per organizzare proprio questa manifestazione che ha offerto un grandissimo spettacolo a chi è intervenuto. Forte Ogliastri ha ospitato una manifestazione che avete voluto fortemente, una manifestazione nella quale avete unito cultura, natura, solidarietà, assistenza per i disabili. Sì, Forte Ogliastri è una cornice straordinaria nell'area dello stretto e con questo evento, la prima edizione Magica Lorsi 2009 Messina, abbiamo voluto coniugare quello che lei ha detto cultura, natura, bellezza. Infatti questo evento ha avuto patrocino dell'assemblea regionale siciliana dell'assessorata alle politiche culturali del comune di Messina, visto appunto l'idea di fondo che era quello di testimoniare attraverso la magia e la bellezza del cavallo non soltanto la tradizione equestre della nostra città che è ricca e profonda e anche non conosciuta, ma anche la magia di quest'animale che riesce a catturare l'entusiasmo, la passione dei tanti ragazzini che hanno partecipato. Animali provenienti da tutta la Sicilia, come si è svolto questo spettacolo nel dettaglio? Sì, noi abbiamo ritagliato due momenti, un primo momento ludico sociale nel quale appunto hanno partecipato i ragazzi diversamente abili anche, in particolare i ragazzi dell'associazione Anch'io, sindrome di Down e ho potuto rilevare, come tra l'altro in tante occasioni, già che sono stati responsabili di diversi progetti pilota di ipoterapia della provincia di Messina, quanto questa metodica riesce a determinare delle grandi trasformazioni dal punto di vista emotivo, dal punto di vista emozionale e dell'equilibrio. Per chi è particolarmente consigliata? Quali benefici può produrre l'ipoterapia? L'ipoterapia è consigliata in diverse patologie, già Senofonte, i grandi maestri dell'antichità lo consigliavano per tante patologie, in particolare nei disturbi dell'apprendimento, nei disturbi del linguaggio, anche nei disturbi psicomotori, nei disturbi autistici, pervasivi dello sviluppo, nei soggetti con sindrome di Down, cioè in tutte le patologie nelle quali appunto il rapporto con il cavallo crea in un ambiente naturale quello che tante volte si fa nelle sale di psicomotricità, di ospedali o di centri di riabilitazione, con molta meno capacità di coinvolgimento del ragazzo. Messina ha avuto una grande scuola di guidazione, adesso quasi totalmente dimenticata. Sì, non tutti lo sanno, ma la tradizione equestre di Messina è straordinaria, importante. Non dobbiamo dimenticare che da Messina transitavano i crociati per la Terra Santa, i cavalieri di Carlo V, che percorrevano il sentiero dei Vespri che conduce sino alla storica e straordinaria abbazia della Badiazza ed è ancora importante l'Accademia dei Cavalieri della Stella, una delle più importanti, Accademia e Scuole di Equitazione d'Italia. Il fine di questa Accademia non solo era l'arte dell'equitazione, ma anche sviluppare il clima di cordialità, di amicizia, di lealtà, di responsabilità, cioè tutti gli ideali cavalereschi che forse dovremmo recuperare. Il dottor Allone ha promosso alcuni incontri nelle scuole di Giostra, in particolare nei sette plessi dell'istituto comprensivo Villalina e Vannantò, proprio per fare conoscere l'ipoterapia e i benefici che garantisce. Si chiude qui il primo appuntamento con Minor League, oggi come detto ci siamo occupati di guidazione, torneremo presto per dare spazio ad altre discipline. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.